Buonasera, buonasera cara. Cosa l'ha spinta ad approvare il progetto del cinema all'interno della nostra scuola? Non c'era nessun motivo valido per cui non ci spingessimo in questa progettazione. Un progetto cinema integra veramente tutte le competenze trasversali che si chiedono ad uno studente. Ha avuto un riscontro positivo tra gli studenti a suo parere? Beh al momento sì, la partecipazione è stata entusiasmante, i ragazzi hanno frequentato superando tutte le difficoltà dovute al sovraccarico di lavoro, la partecipazione, la frequenza è stata costante quindi è veramente un progetto che ha avuto pieno successo. Cosa si spetterebbe invece dai corti che vedrà stasera? Li ho già visti i corti perché siccome erano oggetto di valutazione io non potrò garantire la presenza sino alla fine, quindi io ho già visionato i corti, ho espresso le mie preferenze che sono state date al professore Rollo. Va bene, grazie mille, salve!